Preparate il pane per la scarpetta perché arrivo! Questo secondo piatto a base di patate, merluzze e pomodoro è troppo buono! Iniziamo tagliando le patate e le cipolle a fettine e poi facciamole rosolare in padella con olio. Aggiungiamo dei pomodorini e facciamo cuocere questa salsa. Insaporiamo con sale e pepe e mescoliamo per qualche istante. Poi facciamo un fitto strato di patate che diluiamo con un pochino d'acqua e infine uniamo le fettine di merluzzo scongelate. Insaporiamo il tutto con olive e cappere e prezzemolo e richiudiamo con un coperchio. Ogni tanto muoviamo la pentola per smuovere il tutto e facciamo cuocere. Ed eccolo qui! Merluzzo con patate e pomodoro pronto! Preparalo subito anche tu! È semplicissimo e buonissimo! Buon appetito amici! Ciao! Ciao!